Sì, faccio io le domande. Siamo qui con Gaetano Masucci, autore di un bellissimo gol, forse uno dei più belli di questa stagione, che purtroppo però non è riuscito a ottenere un risultato positivo. Non so se vuole raccontare un po' la tua parola. Sì, il rammarico è questo, sembrava tutto perfetto, poi purtroppo è arrivato questo gol alla fine che brucia, troppo così brucia. Resta comunque l'aspetto positivo che è stata la reazione che ci ha portato comunque poi dopo ad andare in vantaggio. La prossima partita è con il suo Genoa, un avversario forte. In questo momento si sta rilanciando dopo una stagione difficile. Cosa servirà per vantare il Genoa? Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo. Sicuramente li mando qualche sbavatura, ma comunque continuando con la mentalità sempre di provare ad andare a vincere. Tanto in questo campionato si sa che le partite sono tutte difficili. Grazie mille.